Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. La prima domanda, noi vi conosciamo, abbiamo conosciuto la storia di Dinamica. Intanto, prima cosa, se dovessi descrivere chi sono i Dinamica, come descrivi questo gruppo per chi non vi conosce? Allora, siamo una band che sicuramente ancora, bisogna essere onesti, sta cercando la propria identità nel mondo musicale, nel senso che, avendo già ascoltato il nostro precedente lavoro e questo, ci sono delle differenze. Ovvero, il primo album era molto misto a livello di generi, quindi rappresentava un po' il mondo blues, rock, ma anche un po' di canto autorato italiano, vedi, tu sei l'unica. Con Amore Brutale abbiamo avuto più un'impronta, è brutto a etichettare le cose, però più un'impronta indie, un po' più rock, più moderno anche, con dei suoni diversi. E diciamo che la seconda ci è piaciuta molto. Per essere curiosi, sicuramente sul palco diamo tantissimo, quindi noi vi aspettiamo live per potercela gustare. E per quanto riguarda i pezzi e conoscerci meglio, siamo cinque persone con ognuno il suo genere musicale. E questo genere musicale viene rispecchiato nelle scritture di ognuno di noi. Siamo tre autori su cinque componenti, di cui io, Roberto Golfieri e Nicola Santi. Apro una parentesi per salutarli tutti. Quindi saluto Nicola, il cantante, Roberto l'altra chitarra, Gennaro è il nostro batterista, Chiara è la nostra bassista e poi vabbè, ci sono io. Mi autosaluto. Avendo dei generi diversi, c'è molta varietà. Quindi se vi piace un po' la musica varia, quindi non sempre quella di un un certo stampo, facciamo al caso vostro. Ecco. E a questo punto parliamo del nuovo singolo. Come nasce questo singolo? Da cosa attrae l'esplicazione? Poi un titolo abbastanza preciso, Amore Brutale. Allora, è nato, essendo io l'autore ho più facilità a parlare di questo, nel senso che è nato in un periodo del lockdown. Lockdown ci aveva chiuso in casa, quindi era un momento di, come si può dire, anche di smarrimento anche per tutti, perché insomma una cosa così non era mai successa. Successo proprio anche di chiuderti in casa e quindi di non vedere le persone esterne, se non chi stava in casa con te. E questo ha permesso di rispecchiarsi con l'anima di se stessi, quindi di capire meglio le persone che siamo, ma anche le persone che abbiamo vicino a noi. Il titolo Amore Brutale ha a che fare con l'amore che è quel piacere, e il brutale è quel senso di stacco, quindi una cosa brutta che capita. Ed essendo capitato in quella circostanza dove si è vissuto, quindi l'amore di chi ti stava vicino, c'è il paragone anche del brutale nel senso di quello che invece ti stava circondando. Poi si ha più interpretazioni, sembra più rivolto a una coppia, non è autobiografico il brano, sembra più rivolto a una coppia, nel senso che sono molti, la terminologia è usata molto spesso con due persone che hanno un dialogo, però nell'insieme si può scavare, capire che in realtà è anche con quello che ci circonda, che i rapporti che alla fine sono terminati o stanno terminando oppure non te li aspettavi in questa maniera. E quindi ha un doppio senso, sia familiare che quindi personale, ma il personale è rivolto sia con chi abita con te, ma anche con le persone esterne. Nella composizione delle canzoni, nel caso tuo, posto, nascono prima le parole, nascono prima la musica, oppure nascono insieme, oppure è un caso? Dipende dalle circostanze. Nel mio caso personale, parlando come me autore, prima nascono le parole e dopo sicuramente con la band riusciamo a mettere insieme quello che è anche un'idea musicale. Quindi mentre per Roberto penso sia più un intuito nel suo giro di accordi trovare anche le parole. Però dopo diciamo che entrambi i metodi poi ti portano a rapportarti con la band e quindi a trovare la giusta soluzione e trovare la giusta armonia e far combaciare anche quelle che possono essere le parole corrette. Sai, tu puoi anche scrivere un testo ma non sempre in metrica, quindi poi devi trovare degli accorgimenti o stravolgerlo tante volte. E questo nasce in sala prove. Però per il mio caso personale a me piace molto scrivere. Prima scrivo e poi trovo il nesso con la musica, con le note. Tenendo presente che il genere musica attualmente gira molto il trap, dove le parole sono una quantità enorme, è più facile inserire le parole in un testo oppure sottrarre le parole in un testo? Essere sintetici. Questa è una bella domanda. Tutto dipende, secondo me, da quello che vuoi anche dire. Quindi ci sono argomenti che puoi anche trattare proprio direttamente, quindi tante volte non hai proprio bisogno di spiegare un sentimento o una situazione quando è diretto, mentre se devi spiegare un sentimento, una ragione per cui stai scrivendo, anche una rabbia, quindi una cosa autobiografica, tante volte ti fai coinvolgere dalle parole. Però è anche vero che devi stare anche ai tempi della radio. Il radio, purtroppo, oltre, purtroppo sì, purtroppo no, oltre tre minuti e trenta non puoi andare. Quindi bisogna anche trovare il giusto equilibrio, dove essere coincisi per poter dare il giusto messaggio. Io dico sempre che chi scrive le canzoni è un po' un regista. Il regista ha una quantità infinita e tempo anche per dedicarsi alla produzione di un film, a degli attori, a dei dialoghi, a della gente che lo aiuta, a una colonna sonora, a dei luoghi, quindi c'è anche l'immagine. Oggi invece chi fa musica in tre minuti e trenta deve essere il regista di quei tre minuti e trenta. E quindi devi essere in grado di coinvolgere la persona che ti sta ascoltando in breve. Tante volte il succo, il cuore, deve arrivare un po' abbastanza in fretta, perché oggi è anche abbastanza veloce la musica. Però il paragone mi piace molto quello da usare come registi all'interno, anche musicale. perché alla fine è quello. Si descrive un'emozione, si descrive un pensiero, uno lo fa con le immagini e i dialoghi, l'altra persona lo fa con la musica e le parole, che poi combaciano perché alla fine c'è sempre la colonna sonora che rappresenta alcune scene di film. Quindi lo trovo coerente questo, ecco. A questo punto la domanda alla Marzullo. Le canzoni sono un frammento di vita reale o un frammento di vita ipotetico? Allora, per quello che mi riguarda a me, sempre come autore, tuttora stiamo scrivendo, perché a breve pensiamo di uscire con dei pezzi nuovi, sono sicuramente anche raggiunta a una certa età e una maturità di età, sono sicuramente degli aspetti di vita quotidiana. Quindi non è tanto fantasia. A me colpisce molto se trovo un film, un'immagine, un colore, cioè qualcosa che mi colpisce e mi piace poi prendere appunti e da quello sviluppare un'idea. Quindi io penso sia di vita reale, cioè anche quello che è di fantasia puoi rapportarlo a quello che può essere di vita reale. Comunque non si sta parlando di UFO, ecco, nel senso, quindi anche se è una fantasia quello che hai visto in un film o che non ti ha toccato personalmente, quindi è la fantasia o la storia di qualcun altro, essere in grado di percepire qualcosa, un messaggio e farlo tuo e riproporlo alla tua maniera. Quindi lo paragono comunque a qualcosa di reale. Com'è cambiata la musica? Da quando è iniziata a ascoltare musica ad oggi? Perché parliamo del qualche anno fa un brano iniziava a giugno, finiva a novembre, dicembre e ce la saremmo portati anche per il carnevale dell'anno successivo. Oggi un brano dura una settimana, tre, dieci giorni e poi incomincia a scemare, cioè essere già passato di moda. Un po' queste piattaforme sono a questo punto un danno o una soluzione per i giovani? Ti do ragione, nel senso che è vero, una volta gli album duravano. Duravano nel senso che comunque era tutto poi come ascolti, come c'era anche piacere fare un album perché si vendevano, cioè quindi e poi all'album era abbinato anche un tour. Oggi invece si fanno i singoli e poi anche le grandi band fanno i tour, nel senso che comunque si vanno a riproporre brani anche storici che ci sta, ma il problema maggiore penso che adesso è tutto molto veloce. Mi ricordo che recentemente c'è anche stato Spotify che stava obbligando gli artisti a produrre un brano ogni settimana perché il mondo della musica è veloce, quindi ogni giorno bisogna avere una novità. Questo secondo me fa perdere un po' di qualità, nel senso che vedo più corretto piuttosto produrre un singolo ogni due o tre mesi per tenere viva la fiamma e poi alla fine di tutto produrre e fare una raccolta di album in un album piuttosto che fare un album che purtroppo va nel dimenticatoio come veloce nell'ascolto va anche veloce nel dimenticatoio. L'internet e lo Spotify è una piattaforma utilissima nel senso che oggi sei dappertutto con un click sei ovunque quindi su questo non ci si può dire niente però ha la stessa velocità di un click che viene dimenticato. Io sono ancora uno di quei pochi che compra i cd li ascolta mi piace aprirli anche te meno male quindi mi piace l'odore della carta ma anche capire il testo perché ancora purtroppo non tutti ma alcuni ancora mettono dentro i testi le fotografie perché capisci tanto in un album la storia dell'album e quindi secondo me bisogna ritornare a quello anche la storia dei vinili è vero che li stanno buttando fuori ancora per fortuna sta ritornando di moda però ahimè c'era dire anche che stanno tornando di moda quelli vecchi quindi le ristampe si fanno i famosi music record store e ti ripropongono cose di 30 anni fa 20 anni fa quindi è un mondo difficile è un mondo difficile però ecco per noi dalla nostra generazione almeno penso o per chi apprezza è sempre bello avere il vinile ascoltarlo il suo giradischi le cuffie il cd poi ovvio spotify ti fa scoprire altre realtà spotify come qualsiasi altra piattaforma che magari non avresti nel tempo e spenderesti anche magari tantissimi soldi però a sostegno di chi fa musica se poi ti piace qualcosa su spotify io sarei per quello che dopo li va a comprare almeno anche io vado a scoprire gente nuova che suona su spotify c'è il suo scusami che pubblica su spotify ma poi li sostengo non solo negli ascolti su spotify ma voglio capire l'album come viene concepito ecco quindi è utile ma c'ha purtroppo il suo la sua la sua controparte ecco e invece l'emozione che si prova salendo sul palco qualche tuo collega qualche tuo collega mi ha detto prima di salire sul palco a volte mi nasce il dubbio dicendo chi mi fa salire sopra il palco a mettermi poi quando si apre la quarta platea che è tutta la gente davanti che inizialmente sta zitta poi si emoziona canta balla salta e ti manda quella energia prima cosa che sensazione provi forse è quello che ti manca ti manca e adesso ci sarà allora guarda noi per nostra fortuna l'abbiamo già avuta che siamo arrivati dal 2 giugno che abbiamo fatto la Repubblica del Rock ad Andorra un concerto una manifestazione internazionale con ospiti internazionali e anche band rock italiane emergenti è stato bellissimo quindi c'è stato questo palco enorme 16 metri di palco luci quando ti chiamano a salire che al tuo momento vai dietro il palco c'è la scaletta per salire prepara il tuo strumento vedi intanto la gente che è lì aspetti l'altro tuo l'altro musicista che sta scendendo ti dà il cambio è un'emozione quando attacchi il jack io parlo per me che sono chitarrista attacchi il jack alla chitarra e ti fanno fare il tuo check intanto guardi la gente che aspetta attende cos'hai da dire cos'hai da dimostrare quello è molto bello allora poi ti guardi con la band il tuo batterista dà il tempo e parti è fantastico è un'emozione davvero bella sia che ci siano dieci persone che ce ne siano cento perché è ovvio se ce ne sono cento è molto più coinvolgente diventiamola così ma comunque è sempre un'emozione cantare e suonare davanti a tanta gente e avere il rispetto anche della gente che ti sta venendo ad ascoltare è lì che vuoi dare il massimo perché vuoi farti conoscere vuoi fare la tua musica quindi è da apprezzare la gente che ti viene ad ascoltare e per questo li voglio ringraziare e invece quando poi scegli a parco la gente che ti incontra ti fa domande o ti chiede in questo caso l'autografo la sensazione che ti provi e dici ma sono io sì firmo oppure rispondo alla domanda strana ma una domanda oppure una domanda che non nemmeno ti aspettavi che ti facesse che ti ha sorpreso impiacevole ma sono capitate entrambe le tre circostanze che hai descritto sono capitate nel senso che comunque noi portavamo i nostri cd e è vero che erano gli amici o chi per esso che ti chiedeva la firma sul cd però è sempre una bellissima emozione c'è qualcosa di tuo che vai a firmare c'è gente che ti chiedeva finito il concerto o ti faceva i complimenti per quel pezzo per quella frase che gli era arrivata e questo ti emozionava perché dicevi cavolo allora arriva il messaggio di quello che vuoi dire ed è bello poi la gente che ti chiede adesso nel nostro piccolo io sto parlando però la gente che ti chiede la foto ma è molto bello anche sai cosa nei festival dove vai a suonare ritrovare la gente con cui hai suonato e hai partecipato a diverse manifestazioni noi di Sanremo Rock ad esempio per farti un esempio ci siamo ritrovati con alcune band alla festa della Repubblica ma è stato bellissimo è stato bellissimo rincontrare altre band cioè la tua stessa passione rivista sul palco le tue stesse emozioni quel come stai non era così tanto per scontato era proprio come se ci conoscessimo da una vita invece abbiamo fatto solo una manifestazione insieme e si è instaurato un rapporto quasi familiare anche con gli organizzatori quindi è davvero cioè la musica regala emozioni ed è la cosa più bella che c'è secondo me infatti l'ultima una delle ultime domande era cosa ti ricordi di Sanremo Rock? di Sanremo Rock mi ricordo tantissimo e tutto molto positivo mi ricordo questo impegno questo impegno da parte degli organizzatori a farti conoscere a renderti partecipi nella città della musica anche in Sanremo con diverse manifestazioni all'interno quindi all'esterno del palco di Sanremo Rock c'era un palco esterno dove facevi la tua esibizione poi c'era il tuo giorno il tuo calendario della settimana Sanremese dove ti esibivi all'Ariston quindi calcare uno dei palchi più importanti della storia della musica italiana al di là dei generi che ti possono piacere o no andare in giro per i locali avere questo famoso pass la gente ti guarda mi è capitato che la gente mi offrisse un caffè ma sono un eterno sconosciuto quindi sono emozioni e è una cosa che ti ha regalato Sanremo Rock ti ha regalato l'amicizia di altre band e poi ha fatto ti fa unire anche come band nel senso che comunque stai facendo qualcosa di importante e questo questo ti responsabilizza ti fa prendere anche autocoscienza di alzare l'asticella perché ce ne sono davvero tante di band italiane brave che sanno suonare che sanno coinvolgere e in queste manifestazioni si impara molto quindi se si va con lo spirito giusto e umile di percepire determinati messaggi è è una crescita personale e artistica e a questo punto fare un salto a livello internazionale introducendo anche un po' l'inglese e quello è il nostro cantante e la domanda gliela giro al cantante il cantante si sta Nicola si sta impegnando a imparare l'inglese vediamo anche se ti dico la verità siamo italiani ed è giusto cantare in italiano la musica italiana se vuole fare rock lo può fare quindi la dimostrazione lo sono per me i gruppi che ho come riferimento miei personali i Verdena Marlene Kunz After Hours italiani quindi se si vuole si fa quindi sono convinto di questo certo sarebbe bello sarebbe bello però è bello anche riuscire a fare rock italiano e ne sono contento abbiamo scoperto intanto che oltre altre poche band avete anche voi una bassista donna perché non è non è facile trovare abbiamo incontrato anche band soltanto femminili ma avere una band anche bassiste donne è bello è che bassista è che bassista no no la Chiara l'abbiamo accolta veramente con entusiasmo anche perché la genesi della band io e Chiara siamo subentrati in un secondo momento diciamo che i fondatori della band della vecchia guardia sono Nicolas Gennaro e Roberto al quale c'erano altri elementi che poi quando è diventato il progetto abbastanza serio insomma hanno avuto la responsabilità di dire ok non ce la facciamo sostenere determinate cose e siamo stati sono stato tirato in ballo io e di conseguenza mancava una bassista Chiara lavorava con me o perlomeno nello stesso zona di lavoro e gli ho detto senti ma che suona il basso che ne dice di venire a far parte della band e da lì lei è entrata in punta di piedi molto carina molto umilmente si è messa dietro e adesso fa parte della nostra famiglia a cui vogliamo un gran bene ma non è solo una bella presenza sa anche suonare il basso quindi meglio di così non potevamo chiedere c'è qualche artista caso tu chitarrista che ti ha dato l'ispirazione che ti ha fatto anche crescere musicalmente ce ne sono tanti ce ne sono tanti io arrivo dalla generazione di come si può dire di Napster o dei primi cd che si facevano copiando piuttosto che io arrivo da quella generazione lì il mio primo album è stato l'album degli Iron Maiden Seven of Soul Seven una roba del adesso non me lo ricordo Seven Son of Seven Son ah ecco bravo ok scusami scusate il fan degli Iron Maiden avevo comprato a quei tempi non avevo i soldi ho comprato l'audio cassetta appunto c'erano anche le audio cassette ecco a quei tempi si immaginava tanto questa musica nel senso che wow che mi aveva colpito in quel periodo a cui sono legato molto a livello proprio affettivo erano gli U2 in quel caso che non c'entrano niente con gli Iron Maiden però a quel tempo gli U2 con Rattle and Down The Joshua Tree l'evoluzione di Actun Baby a caspita lì mi aveva mi avevano colpito soprattutto il personaggio di Bono e di Age a fare con poche note della musica che ritenevo a quei tempi straordinaria e poi gli eventi del grunge spalle tanta roba in Nirvana poi vai a seguire Hyper Jam poi inizia il rock italiano che vai a approfondire Marlene Kunz After Hours Verdena e allora lì incominci a capire loro invece da chi sono stati influenzati e ti si apre un altro mondo i Sonic U Velvet Underground gli stessi Nirvana e quindi se hai questa mentalità di vedute larghe e sei una spugna wow è solo da scoprire quel mondo qua ed è una continua evoluzione e anche album passati sono delle perle a cui tra la respirazione quindi sono diversi sono diversi non ce n'è proprio uno se mi parli di riffettoni di chitarra vabbè non posso non citare Jimi Hendrix o Jimi Page che wow magari però nel complesso in musica generale è proprio tutto questo giro qua che mi fa che mi fa impazzire la foto di Rimbanghetti era autografata quella dietro quale scusa? in alto a lui? sì sì Agnelli sì insieme a Rodrigo sì 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 è un poster che avevano fatto quando aveva fatto il teatro lui e Rodrigo insieme e e niente c'è l'autografo di Agnelli e Rodrigo dell'Elasmo mentre di qua io penso parte del fans club degli U2 il testo di Ordinary Love la trascrittura di Bono del brano e quindi tanta roba questo è un po' il mio tempio ecco diciamo in alto c'è il mitico album incorniciato degli U2 e questo è un puzzle di un'edizione limitata di quando era uscito il film Montage Off Check di Corco Bay allora l'ultima domanda progetti futuri? progetti futuri sicuramente in questo momento voglio ringraziare Divinazione che ci sta dando e ci ha colto nella loro famiglia e ci sta dando una grossa mano ci sta dando una grossa mano e ci sta facendo venire quella gran voglia di di suonare di mettersela tutta è gente che veramente ti spinge ma ma anche di nostro stiamo vogliamo scrivere del nuovo materiale quindi essere presenti sul con con i nostri pezzi e sicuramente lo stiamo facendo richiede impegno richiede volontà però ci stiamo dando dentro quindi progetti futuri sono sicuramente penso entro la fine dell'anno almeno un paio di singoli poi abbiamo sempre condivinazione delle date che sono a Rock Targato Italia il 30 luglio poi avremo la settimana a Sanremese perché siamo stati selezionati anche quest'anno che è dal 5 all'11 di settembre quindi tanto lavoro e tanta voglia sicuro io voglio salutare tutti vi invito a seguire le nostre pagine che sono su tutti i social da Twitter a Facebook SoundCloud è dinamica con la k punto official e ci trovate un po' dappertutto se vi siamo piaciuti o vi piacciamo vi invito a mettere un like e seguirci per le prossime evoluzioni della bella e per ora io cosa fare posso solo ringraziare voi per il tempo che ci avete dedicato perché alla fine ci avete dedicato del tempo a farci conoscere e anche all'ascolto quindi se avete presi la briga di ascoltare il brano insomma tanto di cappello siamo in debito con gente come voi che ci crede studio 7 in collaborazione con Sport e Piceno Game presenta l'intervista di Pietro in cui o o o o Grazie a tutti.